Quest'anno Monumenti Aperti è un'edizione speciale, tutta virtuale, però il tema è momenti memorabili. Un momento memorabile per Tuvigeddu fu nel 2011, quando il Consiglio di Stato bloccò tutti i progetti di edificazione sul colle. E in quell'anno, con Alfonso Stiglizzi, facciamo proprio un'edizione di Monumenti Aperti speciale e oggi Alfonso ci accompagna nella visita, passeggiata a Tuvigeddu. Tuvigeddu, Tuvumannu, Monte della Pace, Ismirrionis, parliamo di un vasto colle dai molti nomi e dalle varie cime che erano separate da una piccola valle che oggi è trasformata in una strada asfaltata alla via Ismaias. Il fatto che i suoi versanti siano stati scelti dagli antichi come luogo privilegiato per abitarvi, per seppellirvi i propri cari, per le attività produttive dalla lontana preistoria sino ai giorni nostri, ci permette di definirla come sito identitario della nostra città Cagliari. La sua stessa posizione nel pieno centro il cittadino ci dice della sua eccezionalità e dell'eccezionale possibilità di conservazione e di valorizzazione. Una storia che inizia almeno 6.000 anni fa e di cui è testimonianza il villaggio neolitico di via Ismaias, compreso nell'area occupata oggi dalla via Castelli, dalle case di abitazione di via Ismaias e dalle nuovi edifici della Facoltà di Ingegneria. Un millennio dopo, circa 5.000 anni fa, il colle inizia a essere utilizzato come cimitero. È la prima volta, per ora, di cui abbiamo notizia di un uso funerario del colle. Si tratta di un vasto cimitero ubicato nel versante orientale del colle, il versante cosiddetto di Tuvumannu, Monte della Pace, e appartenente alla cosiddetta cultura di Monte Claro. Era la più vasta necropoli dell'isola per questa cultura. Si ha notizia di almeno una dizina di tombe collettive, oggi non più esistenti purtroppo, che erano ubicate una presso l'ex ospedale psichiatrico, ed è la tomba che ha dato il nome a questa cultura diffusa in tutta la Sardegna. Quattro in via Basilicata, una in via Trentino, una mezza dozzina sotto la casa dello studente di Saduchessa. Il suo abitato era grossomodo nell'area che c'è tra la Facoltà di Lettera e le pendici del colle, oltre via Ismiriones. I difunti erano sepolti in grotticelle artificiali, sorta di Domu de Janas, scavate nella roccia e dotate di un pozzo verticale per accedervi. E intorno a loro, intorno ai defunti, erano deposti una quantità abbastanza elevata di oggetti, di vasi estremamente raffinati e molto tipici di questa cultura. Sono scarsi invece le tracce della cultura successiva, quella che viene subito dopo questa, cioè la cultura anuragica del secondo millennio avanti Cristo, che sono limitate finora a degli oggetti, a dei semplici ceramiche o oggetti in pietra dispersi nel colle, ma senza che sia stata finora identificata alcuna struttura. L'aspetto che però colpisce oggi per chi visita Tuvigè e Tuvumannu è la grande, è la necropoli fenicia di età punica, con la grande quantità di tombe scavate nel colle. È databile tra il VI e il III secolo avanti Cristo ed è una delle meglio conservate nel Mediterraneo e si estendeva grosso modo dalla piazza d'armi fino a via Montello, via Sandonà. E anch'essa è caratterizzata da tombe scavate nella roccia, da camere scavate nella roccia, alle quali si accedeva attraverso un pozzo, un po' come quelle della precedente cultura di Monteclaro, ma facilmente distinguibili da essa. Sono pozzi spesso segnati di simboli scolpiti o dipinti, alla base dei quali si aprivano delle camere dipinte. Ecco qui dipinte sia con motivi geometrici sia con motivi invece più elaborati. Sono decorazioni che sembrano riprodurre le decorazioni o gli arazzi delle case dei vivi, quindi fare la tomba come diciamo il contraltare della casa di quando si era vivi, oppure con ricchi dipinti con suggestioni orientali, il serpente alato egiziano ma alato alla moda orientale, oppure ricche di significati rituali. La città di riferimento era, Carali, questo è il nome che conosciamo dalle iscrizioni, si estendeva tra il colle e la laguna di Santa Gilla, nell'area oggi occupata dal quartiere di Santa Vendrace, dove c'era il porto, grosso modo dove oggi sorge la città a mercato, proprio qui davanti nella foto. Più in là, nei primi secoli dell'età romana, ultimi secoli del primo millennio avanti Cristo, quando la città ormai si sposta dall'area di Santa Vendrace a quella di Piazza del Carmine e all'area dell'attuale porto, una parte della necropoli viene trasformata in sede di abitazioni signorili, abitazioni in collina, testimoniate dai rivenimenti effettuati dove oggi sorge la scuola di via Falsarego, l'ex scuola elementare di via Falsarego, con pavimenti in conciopesto e, come vedete, delle simboli punici, come in questo caso il segno di Tanit in primo piano sulla soglia della casa. Ma una parte del colle è ancora occupata come area funeraria, composta da tombe con facciate monumentali, quindi non più pozzi nascosti, ma tombe che si manifestano apertamente sulla strada, su quelle strade che, diciamo, collegavano i vari gradini del colle, come la strada, questa dell'immagine, sulla quale si apriva la tomba di Rubeglio e delle sue due mogli. E alcune di queste tombe in più conservano ancora delle testimonianze scritte, come appunto quella di Rubeglio, sul cui ingresso c'è un'iscrizione che si rivolgeva in modo un po' inquietante ai passanti. Questo monumento ti sia da monito, nel senso che prima o poi ci andremo tutti. Oppure come la Grotta della Vipara, che racconta la struggente storia di amore di Attilia Pompilla e che si apriva sulla strada di uscita dalla città verso l'interno della Sardegna, verso Tours Libisonis, l'attuale Porto Torres. Dall'età medievale, passando il tempo, è presente un vasto insediamento rupestre. Una parte di queste tombe sono state riutilizzate, sia queste romane, sia quelle di età punica, che come abitazioni, come rifugi, forse anche come elementi ecclesiastici. È stata ipotizzata ad esempio che la tomba di Rubeglio fosse la chiesa di Sant'Eodoro, da cui prenderebbe il nome il quartiere di Sant'Avennero, Sant'Udenuri, che è il nome tradizionale del quartiere di Sant'Avendraccio. In età moderna il colle torna a essere luogo di residenza in collina. In 1900 vengono realizzate anche con villi di livello, di pregevoli fattezze, alcune direttamente sulle tombe, come il villino Kosumurru di La Laura, oppure come il villino Serra o quello i mulas mameli. A questo si accompagna anche in tutta la sua storia un importante paesaggio di archeologia industriale, che va dal complesso sistema di cave antiche, questa è una cava post-romana realizzata eliminando le tombe puniche, anche parte dell'acquedotto romano, sino alle grandi attività estrattive novecentesche e alle relative strutture di lavorazione del calcare, quello che è un paesaggio minerario urbano estremamente importante che ancora aspetta di essere valorizzato. Per tutti questi motivi ritengo che il colle di Tuvigè e di Tuvumannu sia la più importante area archeologica della nostra isola, della Sardegna, che lo sia per l'ampiezza della sua estensione culturale di vita continua dal neolittico recente ai giorni nostri, ma anche per estensione fisica territoriale, una settantina di etta realmente. La presenza di donne e uomini di diverse epoche, di diverse culture, di complessi modi di intendere il proprio rapporto con il mondo che le circonda attraverso il suo posto tra una vasta collina che guarda il mare, hanno fatto di questo spazio indubbiamente il luogo dell'identità urbana per una città che è inevitabilmente proiettata nel Mediterraneo, allora come oggi.